C'è lasciato la convinzione che l'internazionalizzazione non è più fatta da azioni spot per cui dalla partecipazione a missioni più o meno improvvisate, la presenza sporadica in fiera ma richiede un accompagnamento organizzativo all'azienda e questo è quello che noi facciamo oramai da anni, per cui non abbiamo interesse a vendere un mercato piuttosto che un altro una fiera piuttosto che un'altra, ma abbiamo interesse a trovare con l'azienda la sua via per l'internazionalizzazione Da diversi anni collaboriamo con una rete di partner che copre tutti i paesi europei con cui aiutiamo le nostre imprese a iniziare una presenza su questi mercati Solitamente questi partner visitavano singolarmente le imprese, quest'anno abbiamo deciso di portarli tutti assieme a disposizione delle imprese interessate a intraprendere un percorso di internazionalizzazione L'export non è una semplice procedura di vendita, ma è un processo organizzativo che coinvolge tutta l'impresa Pertanto ci si arriva per gradi, il primo passaggio è iniziare a comprendere le particolarità di ogni singolo mercato attraverso delle persone che lavorano quotidianamente in quel mercato e che possono, grazie al know-how degli export manager di Confartigianato Varese, far comprendere alle aziende quale sia la forma migliore per penetrare quel mercato Hanno partecipato 29 aziende italiane che hanno svolto 98 incontri In line ci saranno altri 60 incontri Diventerà il momento come quest'anno in cui noi assieme alle aziende che seguiamo a livello consulenziale ragioneremo su quali mercati aggredire nell'anno successivo e con che strategia e con il supporto di quali partner Hanno notato la differenza rispetto ai classici B2B che erano abituati a frequentare nel corso degli ultimi 20 anni ormai possiamo dire in quanto hanno apprezzato il fatto che non fosse un incontro diretto con un potenziale cliente scisso dalla loro realtà aziendale ma che fosse un momento di consulenza per capire come la propria azienda può entrare in maniera più o meno proficua su uno specifico mercato Le aziende che hanno partecipato che sono in parte dei clienti che seguiamo da anni in parte aziende invece che non si avvalevano fino ad oggi nel nostro servizio sono aziende che stanno facendo un percorso di internazionalizzazione e hanno tutte le idee chiare sul fatto che il loro futuro è un aumento della loro quota export questo vale sia per quelle aziende che esportano ad oggi il 5-10% del fatturato che per quelle che esportano il 60-70% Lo consiglierei sia alle aziende che non hanno mai affrontato in maniera organica il tema dell'export ma che pensano di avere un prodotto o un servizio che si presta a uno sviluppo internazionale sia a quelle aziende che hanno un mercato estero consolidato ma faticano a entrare su nuovi mercati Arriviamo da due giorni dedicati all'evento che abbiamo chiamato Export Forum In questa occasione abbiamo visto che le imprese sono state particolarmente entusiaste nella possibilità di presentare le loro produzioni, i loro servizi e valiare con i nostri esperti quali sono le possibili opportunità offerte da questi mercati Abbiamo deciso di dare una svolta diversa a quelli che erano i tipici incontri offerti per le imprese Mi spiego meglio L'incontro con possibili buyer stranieri è una linea di lavoro che viene utilizzato da molte società ed enti In questo caso però noi vogliamo aiutare le aziende a capire se effettivamente c'è spazio o no in un mercato a vagliare insieme dei progetti legati alla loro espansione sui mercati esteri Quindi costruendo anche una sorta di pre-verifica con loro di qual è allo stato attuale la foto della loro azienda Quali sono gli aspetti su cui lavorare Il sito internet, la conoscenza delle lingue straniere E poi ovviamente utilizzare al meglio il nostro network per fare questa mappatura Una delle caratteristiche secondo me su cui dobbiamo aiutare le aziende a lavorare è la capacità di elencare in maniera semplice ma puntuale quelle che sono le loro competenze tecniche e le loro referenze Un buon obiettivo da visita per aprirsi sui mercati esteri Molto spesso lo si dà per scontato è la capacità di presentarsi con tutto quel bagaglio di esperienze e di progetti che si sono realizzati Quindi il nome non solo se possibile di un cliente importante per cui si lavora oppure come ci è capitato la descrizione di un progetto particolarmente complesso che l'azienda ha realizzato magari per un'azienda italiana che esporta e quindi costruire questa fotografia dell'azienda per poi andare verso i mercati esteri significa mettere in fila fattori che sono di forza elencare anche quelli che sono magari dei fattori più limitativi o di debolezza su cui si può benissimo lavorare o affidarsi all'esterno per migliorarsi Naturalmente questo ci aiuta a arrivare a uno stato dell'arte e poi da qui effettivamente aiutare a essere aiutati tramite il nostro network a capire quanto spazio c'è su questo, su quel mercato oppure anche onestamente capire perché con i nostri esperti che sono esperti sui mercati, dei mercati perché magari è meglio ritardare lo sviluppo su quel mercato oppure detto molto onestamente lasciarlo perdere perché il tuo prodotto non è adatto per un mercato estero Noi ovviamente ricontatteremo le aziende daremo un resoconto di quelli che sono dall'appuntamento le possibili tracce, piste di lavoro per ognuna e verificheremo appunto con i nostri corrispondenti quei progetti che possono essere già avviati per eventualmente una ricerca di eventuali partner oppure come detto quelle caratteristiche che ancora devono essere allineate per arrivare a un progetto di successo per l'azienda Un valore aggiunto è capire quanto e come hanno percepito questo format che abbiamo proposto Le aziende mi hanno dato un feedback direi più che positivo secondo molti anche la possibilità di concentrare in questo foro ideale questo forum di incontri la possibilità di incontrare più interlocutori è stato sicuramente un valore aggiunto e quindi direi che è stata fornita davvero una grande opportunità di poter avere con questo network un primo approccio, un primo impatto con tanti input importanti cosa è meglio fare in questo momento su quali aspetti come può essere la traduzione del sito oppure la costruzione come dicevo prima di una sorta di referenze per cui oltre alla company profile abbinare anche delle referenze importanti su progetti svolti oppure quali sono le caratteristiche di alcuni prodotti che magari sono stati studiati solo per i mercati esteri quindi questo sicuramente unito a tanti altri input positivi mi portano a pensare che sia stata una buona idea che sia stata una buona idea che sia sicuro